Ciao ragazzi, vi faccio vedere come si ricava un totem di animali robotici da semplici forme geometriche. Servono plastilina colorata e barattoli di latta. I barattoli prima vanno svuotati eh? Fatevi aiutare da mamma o papà. Io ho dato da mangiare a tutti i miei mostri. Col primo barattolo facciamo un leone e usiamo quadrati e rettangoli. Il naso, il muso, le pupille da felino sono dei semplici quadrati. La criniere invece è fatta come i denti di un ingranaggio. Fate tre quadrati di varie grandezze. Uniteli come una coroncina e appiccicateli al barattolo. Secondo barattolo, l'uccellino. Lo facciamo coi triangoli. Il becco è semplicemente una piramide tagliata a metà. Per le ali partiamo da un grosso triangolo piatto. Tagliando la punta e seghettando le estremità sembrerà una vera ala. Con i triangolini avanzati possiamo fare qualche piuma e anche gli occhi. Infine la scimmia, tutta tonda. Partiamo da un grosso cerchio. Scaviamo due buchi e una striscia. Vedete? Sembra proprio il muso della scimmia. Aggiungiamo occhi e orecchie che sono due semicerchi uno dentro l'altro. scatenatevi anche voi con le forme geometriche. Ci vediamo all'officina dei mostri. Auc!